Con l'approvazione all'Ars del disegno di legge trova la sua completa attuazione il percorso virtuoso avviato dal governo musumeci per il riordino del settore delle edilizie dell'urbanistica in Sicilia. Le norme approvate fissano quei principi di semplificazione e certezza del diritto che rappresentano le colonne portanti della nostra azione, dice l'assessore Cordaro, anche nel settore della tutela del paesaggio e dell'ambiente, uniformando la legislazione regionale a quella nazionale, laddove più favorevole agli interessi legittimi dei cittadini. È appunto quello che ha dichiarato l'assessore regionale al territorio in merito all'approvazione della norma, che apporta alcune modifiche alla legge regionale del 6 agosto 2021 in materia di edilizia ed urbanistica, in seguito all'impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri. Tra le norme in materia ce ne sono alcune di particolare interesse per i comuni, conclude Cordaro, e per la gestione delle aree exasi in Sicilia, per le quali è consentita la possibilità di cambi di destinazione d'uso, per tutte le costruzioni già destinate ad abitazione civile, anche per attività artigianali e industriali, oltre che per la già prevista attività turistico-ricettiva, ovvero commerciale di servizi.